La passione ovviamente è iniziata tanti anni fa quando ho fatto il concorso per entrare in accademia, il percorso è lungo, tanto addestramento, tanto studio. Giulia, capitano dell'aeronautica, 35 anni, di Perugia, è la prima donna italiana a pilotare un F-35, il caccia monoposto di quinta generazione. È in missione di air policing in Polonia, in ambito NATO, un ruolo molto delicato e per sicurezza il Ministero della Difesa chiede di non rendere pubblico il cognome. Sappiamo che abbiamo un ruolo fondamentale salvaguardare i cieli europei e nazionali nei momenti di bisogno. Dopo anni come pilota di Tornado Giulia ha deciso di tentare quello che finora non era riuscito a nessun'altra. Dopo un periodo di addestramento negli Stati Uniti, un anno e mezzo fa è salita sull'F-35. È estremamente tecnologico e l'intento è proprio facilitare il pilota nella condotta del velivolo per poter focalizzarsi sull'utilizzo dei sensori e sulla gestione tattica del volo. Penso che ci debba essere una passione dietro perché obiettivamente il lavoro è impegnativo, coinvolge buona parte della propria vita. La sua famiglia? Che cosa pensa di questo suo lavoro? La mia famiglia è molto orgogliosa di me, è un lavoro non sempre troppo facile, quindi questo magari qualche preoccupazione nel loro cuore la dà, però la nascondono per mostrarmi molta serenità. Come si vede tra dieci anni? Sicuramente spero di continuare il mio percorso a livello professionale e poi a livello personale chi lo può dire? Magari una famiglia, non lo so.